Continuiamo il nostro riflettere sulla gratitudine. Sintetizzo brevemente per quelli che semmai nei giorni scorsi non ci hanno potuto seguire, ci stiamo domandando cosa è la felicità, come essere felici, se possiamo essere felici. Una domanda fondamentale, una domanda che tutti abbiamo nel cuore. Chi di noi non ha mai desiderato o non desidera oggi l'essere felice? E lasciatemi dire che molte volte noi non siamo felici perché abbiamo un'idea sbagliata della felicità. Molte volte la felicità noi la leghiamo alla visibilità, al potere, al successo, ai soldi o per essere buone una serenità interiore. Abbiamo visto che lo stesso vivere è felicità e la ricerca della felicità quindi ci deve portare a scoprire e a interrogarci interiormente. Con l'aiuto di persone che vivono questa ricerca stiamo anche cercando di comprendere quali parole formano la felicità. Mi verrebbe da parafrasare quello che diceva Tonino Bello sulla pace. Don Tonino Bello diceva che la pace non è una parola, ma è un vocabolario e così la felicità. La felicità non può essere una parola, ha una serie di realtà, di parole che ci fanno capire, che ci fanno allenare, che ci fanno cercare, che ci fanno trovare la felicità. E voglio ripetere ancora per voi, ma anche per me, è quello che tempo fa ci ha detto Papa Francesco. La felicità non è avere qualcosa, non è essere qualcuno, ma è stare con qualcuno. E questo qualcuno per noi credenti è Cristo, questo qualcuno per noi è Gesù. Certamente non tutti sono credenti e anche loro hanno diritto alla felicità. La nostra testimonianza può dire a loro la via della felicità, cioè Cristo, ma la felicità molti altri la cercano nell'altruismo, la cercano nella libertà, nella difesa degli ultimi. Vedete che il discorso non è affatto semplice, ma non è nemmeno impossibile. E oggi volevo lasciarvi, perché di tanto in tanto ci fa bene, ascoltare le parole di persone felici. Certamente il nome che vi dico ora, Jean-Pierre Dubois Dumais, che è un francese, questo nome è sconosciuto ai tanti, ma è un padre di famiglia, ha fondato una casa editrice, è un uomo dedito alla preghiera e sentite che belle parole, ha scritto appunto in una preghiera. Insegnami, Signore, a dire grazie. Grazie per il pane, il vento, la terra e l'acqua. Grazie per la musica e il silenzio. Grazie per il miracolo di ogni nuovo giorno. Grazie per i gesti e le parole di tenerezza. Grazie per le risate e per i sorrisi. Grazie per tutto ciò che mi aiuta a vivere, nonostante le sofferenze e lo sconforto. Grazie a tutti quelli che amo e che mi amano. E che questi migli ringraziamenti si trasformino in un'immensa azione di grazie quando mi rivolgo a te, fonte di ogni grazia e roccia della mia vita. Tante grazie, la gratitudine che inonda il mondo. Ma torniamo domani su questo e altri aspetti. Ciao! Grazie a tutti i nostri spettatori.